Tenendo presente che cosa ha detto Meloni di voi? A proposito di regime? Allora, è la prima volta, credo, nella storia del Paese che un ministro, in particolare il ministro Crosetto, lecitamente fa un esposto a un magistrato non per dire che l'inchiesta che noi abbiamo fatto sui suoi conflitti di interesse e sui soldi che prendeva da Leonardo un milione di euro l'anno fosse falsa o diffamante, perché tutto quello che abbiamo pubblicato era vero, verissimo, tant'è vero che non c'è stata mai nessuna querela, ma fa una richiesta per cercare le nostre fonti. Questo è tutto parte da qui, vediamo l'inchiesta, grazie Monti, chiedo alla regia, l'inchiesta di domani parte da qui, così il nuovo ministro della difesa, Crosetto, ha incassato milioni di euro da Leonardo. Dice giustamente il direttore Fittipaldi, Crosetto non si arrabbia, cioè la notizia è vera. No, no, lui minaccia querela, poi non la fa la querela perché non può farla, perché la notizia è vera, con un conflitto di interesse evidente, perché il ministro della difesa va a comprare da Leonardo, è un ente compratore della società, dove prima lui incassava denaro, quindi per me c'è un conflitto evidente. Ma al netto di questo, la cosa che io ritengo grave da un punto di vista democratico, è che la procura di Perugio, prima la procura di Roma e poi la procura di Perugia, si mette a cercare, fa caccia alla fonte. Trova la fonte, ma non indaga soltanto il pubblico ufficiale che ha commesso per motivi che poi verranno verificati questa fuga di notizie. Indaga tutti i giornalisti, con cui, non solo noi tre, anche altri, con cui questa fonte ha avuto rapporti. Qual è il punto? A, non c'è nessun dossieraggio, lo dice lo stesso la procura di Perugia. La procura di Perugia tre giorni fa ha fatto un'ansa dicendo che non c'è dossieraggio. C'è un unico sospetto. Spieghiamo che si intende per dossieraggio. Dossieraggio significa questo, significa che tu prendi delle notizie, costruisci le notizie fondamentalmente false, ma anche vere, su soggetti pubblici e non pubblici, utilizzi quel dossier, lo tieni nel cassetto, e utilizzi quel dossier e quelle notizie come fonte di pressione e di ricatto. Questo è il dossieraggio. Si sta confondendo il legittimo giornalismo investigativo per spionaggio. Che cosa, qual è il problema? Facciamo contegnore... Voi non avete spiato nessuno. Ma non abbiamo spiato nessuno. Noi abbiamo cercato notizie. Lo voglio raccontare bene al pubblico. Voi avete, come tutti i giornalisti, hanno le proprie fonti. Cioè le persone che fanno parte di quella rete di informazioni o che vi possono segnalare... Noi di Striano ne abbiamo decine. Ecco. Non solo di Striano, abbiamo decine di, all'interno delle forze dell'ordine, all'interno della magistratura, all'interno delle persone comuni, tra gli avvocati, tra le persone che hanno in qualche modo accesso a dossier segreti, abbiamo persone che compulsiamo per cercare di svelare al pubblico i segreti del potere. La domanda che viene fatta è... Eravate voi a chiedere a Striano di darvi delle notizie o chiedere... Qualcuno dice... Ma se io devo fare... Faccio un esempio. Se io ho... Devo fare un'inchiesta sulla casa di Renzi, perché scopro che Renzi... Oppure su... I soldi che... Acquamarcia di Centofanti e di Bellavista Catteggione dava a Conte, no? 400.000 euro di fatture all'anno. Abbiamo parlato tante volte. Oppure su Crosetto. Io riesco a avere delle informazioni da X persone. Quelle per quelle... Io devo iniziare a verificare, per esempio, sulla casa di Renzi, se effettivamente, come mi ha detto una fonte, c'è stato un prestito, non c'è stato un prestito, quel prestito è stato restituito, se erano degli amici... Lì parte l'inchiesta giornalista. Lì parte l'inchiesta. E io vado da chiunque per cercare di verificare quelle informazioni. La cosa che io devo fare da buon giornalista è quello di capire se la fonte mi sta dando delle informazioni vere e credibili, se quelle notizie sono di pubblico interesse e se sono, in qualche modo, notizie che non fanno... che non sono state prese da uno che ha ammazzato qualcuno per avere quelle notizie. Poi ho il dovere di pubblicarle, perché il Washington Post che pubblica i Pentagon Papers oppure il New York Times che pubblica le dichiarazioni dei redditi di Trump e che cosa ha fatto quello? Qualcuno gli ha passato quel dossier, l'hanno chiesto, probabilmente sì, lo potevano avere le fonti, forse sì, forse no, forse no. In America un tipo di giornalismo di questo tipo viene premiato col Pulitzer. In Italia tu rischi di finire, come già è successo quando ho fatto l'inchiesta in Vaticano, rischi di finire accusato di aver rubato documenti riservati, fatto spionaggio, dossieraggio... In America se non è qua sei un bandito. E finisci in galera. Qua sei considerato un bandito. Sì, però questo è molto pericoloso. Ti voglio fare una domanda. Perché è chiaro che un giornale piccolo come il nostro, composto da 17 giornalisti, di questo stiamo parlando, è che uno dei pochi giornali di opposizione del paese fa comodo alla maggioranza in qualche modo tentare di attaccarlo per limitarne la libertà. Adesso per noi sarà molto più complicato avere fonti, avere persone che si avvicinano per darci le notizie interessanti su Meloni, sui ministri. È molto più complicato così informale, anche perché le fonti si spaventano. E gli stessi giornalisti in qualche modo dicono, cavolo, non solo i nostri, ma se noi facciamo inchieste pulite, perfette, dicendo la verità, mai perso una quarela in vita nostra, mai diffamato nessuno, beh, a questo punto non ci conviene, la gente si autocensura. Se tu stai giustamente spiegando al pubblico attenzione, noi dobbiamo verificare le notizie che ci arrivano, la nostra inchiesta parte del momento in cui ci arriva una carta, una notizia, e da lì noi cominciamo a fare le verifiche se quella fonte dice la verità. Questo è fondamentale. No, ma lo dicevo per il pubblico. Ma c'è una domanda in queste ore che è questa. Giorgia Meloni dice vogliamo sapere chi sono i mandanti perché questi sono medi di da regime. Allora, ti voglio chiedere, quando Meloni, lasciamo per un attimo e poi torniamo anche a Mattarella. Giustamente avete messo in prima pagina il Colle difende la libertà di stampa e la fotonotizia di oggi parla più di qualunque altra cosa. Mattarella e Meloni vicino. Ma è legittima questa domanda di Giorgia Meloni? Cioè, anche tu vuoi sapere perché questo striano della Guardia di Finanza faceva, secondo i giornali, oggi più di 800 accessi? Migliaia, si parla di migliaia di persone che sono state in qualche modo monitorate, non voglio dire dossierate. È del tutto legittimo la domanda che fa Giorgia Meloni. Cioè, io non conosco striano, non l'ho mai sentito in vita mia, non so chi sia. Però è una vostra fonte, questo ormai è chiaro. È una nostra fonte nel senso che negli atti d'accusa ci sono alcuni documenti, quasi tutti non segreti, che sono passati da lui a uno dei miei cronisti indagati, Giovanni Tizian. io non so chi sia striano e perché ha fatto quei migliaia di accessi, so quello che abbiamo pubblicato noi, c'è alcune inchieste sul potere. Certo. Agli atti però, dico due cose, agli atti oggi d'accusa non c'è la presenza di mandanti, è un'inchiesta che va avanti da un anno e mezzo, può essere il sospetto, perché qualcuno si domanda ma come mai fa striano faceva tutta questa roba? Qui per curiosità, soltanto per dare notizie ai giornalisti o c'era qualcosa dietro che noi ancora non abbiamo capito. Francamente non l'ha capito nemmeno ancora la procura di Perugia. Quello che dice l'avvocato di Striano perché Striano non ha mai parlato è completamente diverso anche per non prenderci cuore da Striano. Lui dice io ho come capo delle SOS della DNA perché lui era il capo insieme a Laudati che era il suo diretto superiore il compito che è indagato anche lui. Ufficio segnalazioni operazioni sospette. adesso lo vedremo. Lui dice io avevo questa è la sua giustificazione poi bisogna andare a vedere se è vero oppure no io avevo il dovere di fare degli atti d'impulso. L'atti d'impulso vuol dire che lui poteva studiare queste carte giudiziari e poteva studiare queste SOS costruire non costruire dei dossier ma costruire delle accuse che poi mandava alle procure. E questo è quello che lui dice che ha fatto e lui spiega gli accessi in questo modo. Io stavo facendo soltanto il mio lavoro. Hai fatto molto bene a ricordare le parole dell'avvocato di Striano Ciao.